Il piccolo comune di Torre Orzai è interessato da fenomeni di spostamento stagionale, che abbiamo identificato come macromigrazione e micromigrazione. La prima riguarda gli spostamenti delle famiglie dei giovani studenti universitari, la seconda è relativa ai flussi interni. La temporaneità così diventa un carattere intrinseco di questo luogo e del nostro spazio. Fruttore dello spazio diventa il bambino, che migra verso poi le attrattive alternativi. L'obiettivo è stato quello di concretizzare la temporaneità con un progetto spazzale tangibile. La temporaneità si esprime attraverso la fisicità delle installazioni e dei giochi mobili. L'installazione diventa un segno distintivo dello spazio, un nido in cui il bambino costudisce i suoi giochi e se stessi oggetti in transito. Si ha così la rottura dell'idea di confine e di limite e il gioco viene usato sia all'interno che all'esterno dello spazio. Grazie a tutti! Grazie a tutti!